Benvenuti a bordo, viaggiatori, sono Grizzly e no, questo non è Diario di Viaggio on the road! Sono qui molto velocemente solo per dirvi che domenica 26 novembre 2017, alle 8, la puntata di Diario di Viaggio on the road sarà una FAQ, risponderò alle vostre domande. Per cui, se avete delle domande, se avete delle curiosità, potete farmene nei commenti, se volete chiedermi di essere salutati potete chiedermelo nei commenti, se volete che cominci o finisca il vlog facendo qualcosa di particolare, non so, magari abbracciando un orsacchiotto di peluche, potete chiedermelo nei commenti, se non mi chiedete di abbracciare un orsacchiotto di peluche probabilmente me lo chiederò da solo perché mi piacerebbe tantissimo farlo! Scherzi a parte, se avete delle curiosità, se avete delle domande, volete sapere qualcosa, potete chiedermelo tranquillamente, non so Grizzly, che cosa ascolti nell'autoradio in macchina? Vabbè, naturalmente è musica in Creative Commons, per esempio adesso sto ascoltando Terlutz con Bloom, quindi vi ricordo che avete tempo fino a venerdì 24 novembre a mezzanotte, perché sabato 25 novembre mattina registrerò il video in cui risponderò alle domande, poi sarà pubblicato domenica mattina alle 8, come sempre. Io sono Grizzly, ciao a tutti, ci vediamo su questo canale, ci vediamo tutte le domeniche mattine con Diario di Viaggio on the road!